I miei soldi, tutti. Utilizzate il comando flun 3-5-2-1. Sì? Ah, che vista mozzafiato, vero? Siamo operativi, grazie a te. Ma c'è molto da fare qui in giro. Prima di tutto, dovremmo preparare il terreno per lanciare la nostra controoffensiva alla legione. Puoi andare. Olli Day ha rilevato una quantità di elettricità sospetta indirizzata verso l'arcologia. Già. Una cosa del genere può voler dire solo una cosa. Una rete GPU di quelle potenti. Forse abbastanza potenti da decifrare il segnale cabale intercettato. Sfortunatamente, non conosciamo l'esatta posizione della rete. Dunque dovrei ficcanasare cercando di non attirare l'attenzione. Mettere al sicuro questa risorsa potrebbe cambiare la sorte della guerra con la legione rossa. Senza di essa... Non so cosa succederebbe. Non so cosa succederebbe. Sembra che i caduti stessero cercando di rompere questa parete. Sfortunatamente, non so cosa succederebbe. Sfortunatamente. 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 Il sistema operativo dell'arcologia si è reattivato. Lo sapevo. Cerca il terminale d'accesso del sistema operativo. Puoi usarlo per rintracciare la rete CPU. Da quella parte, ecco uno dei terminali d'accesso. La rete CPU si trova ai livelli di manutenzione più bassi. Amanda, siamo sulla strada giusta? Vengo! Il posto è quello. Ok, ho la posizione. Ora troviamo un modo per scendere. Ok, ho la posizione. Ok, ho la posizione. Ok, ho la posizione. Grazie a tutti. 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 Holiday. Sì, ci sto lavorando. Questa strada porta al centro dell'arcologia. Dovremmo trovare un'uscita un po' più... Mi sto preparando a decollare. Sarò lì il prima possibile. Amanda! Signore? Vola veloce. E con prudenza. Eh, signore! No! 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 Grazie a tutti. 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 La chiamano l'Onnipotente. Il fiore all'occhiello della legione e l'opera magna del loro leader, Dominus Gaul. Gaul ha soggiogato infinito. Gaul ha soggiogato infiniti mondi e civiltà. Chi si ribella sparisce per sempre. Poiché l'Onnipotente può disintegra, poiché l'Onnipotente può disintegrare le stelle. Niente e nessuno. sopravvive la sopra e le soggiore soggiore. E non sopra soggiogli ha soggiogli. Il viaggiatore Costruimmo la nostra casa sotto la protezione del viaggiatore. Quando i nemici attaccarono, costruimmo una muraglia che ha resistito per secoli. Ma ora non conta più niente. Il nemico ha preso la nostra casa, la nostra luce, e ora minaccia la nostra stessa esistenza. Assalteremo tutti questa... onnipotente. Quanto manca prima che la flotta sia pronta? Ma... Zavala, aspetta! Se aspettiamo, moriremo. Ma se attacchiamo insieme, possiamo riprenderci la nostra casa, la luce e la speranza. O moriremo provandoci. Ho bisogno della mia squadra. Ho bisogno di Korra e di Kade. Ho bisogno della mia squadra. 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 Grazie a tutti.